inquadrato, padre Alessandro Piazzesi che io ringrazio perché è tornato stamattina padre Alessandro oggi sono 100 anni dalla canonizzazione della mistica del sacro cuore di Gesù, Santa Margherita Maria Alacoca e oggi è il momento giusto padre Alessandro di raccontare perché quella che sembra una devozione per poche e pochi anziani rimasti ancora a credere in una tradizione perché tutto questo può arrivare a giorni nostri e cambiarci la vita certo, intanto il cuore di Gesù è un simbolo potente, è una realtà prima che un simbolo bella questa definizione, realtà beh certo, la vita umana di Gesù, il suo cuore come centro degli affetti del mondo interiore più ricco ed è un cuore che si è donato e che si è rivelato quindi è un mistero ma è un mistero rivelato e Suor Margherita Maria Alacoca è uno degli strumenti umani che la provvidenza di Dio ha scelto per questa rivelazione quindi per questo dono a tutti, non è il primo punto della storia appunto è l'anello, un anello di di una catena. padre Piazzesi ancora una volta una donna piccola, semplice, usa un'espressione durissima insignificante ma perché poi capiremo perché, scelta per la rivelazione di questo mistero che invece potremmo pensare, buon Dio potrebbe scegliere qualcuno di più erudito, una donna che poi in seguito a questo riceve tutta una serie di persecuzioni anche all'interno della chiesa perché è facile dire sei una pazza e invece in che cosa resiste e che cosa consegna questa donna a tutta la chiesa? beh intanto la cosa migliore che le diceva non mangia più minestra, era una delle frasi quando andava bene, certo il signore spesso per lo più sceglie persone piccole perché sia ancora più evidente, più manifesta, la sua grandezza. E' interessante nel caso di Suor Margherita Lacocque che alla sua scelta diciamo così fu abbinato il padre gesuita il padre Claude Lacolombier, che crede subito in lei, diciamo che capì che si trattava di una cosa seria e le disse cominci a scrivere un diario e grazie a questo noi abbiamo una testimonianza. Che cosa rivela questo mistero, questo cuore? Che cosa racconta a Santa Margherita? Beh, come dire, racconta l'amore e racconta il dolore. Il cuore di Gesù è un cuore che ha soltanto amato, è solo amato, però è un cuore che ha fatto anche esperienza del dolore, del rifiuto, della persecuzione, della trama e di quant'altro. Un cuore trafitto da quella lancia, anche lì realtà e simbolo. La storia in fondo è cominciata quando Giovanni, l'apostolo giovane e fedele, poggia il suo capo sul petto di Gesù nell'ultima cena, Giovanni XIII. Ecco, è l'inizio di una lunga serie arrivata fino a noi oggi. Il cuore di Gesù, come dire, si apre a Margherita, si rivela e se posso dire si confida, per quello che è l'analogia anche del linguaggio umano e le promette, le fa dodici promesse che poi Suor Margherita, appunto attraverso anche la direzione spirituale del padre Lacolombierre, ha donato a tutti e, come dire, se posso dire l'ansia, il desiderio, la sete di Gesù è che l'umanità, che i suoi figli imparino a conoscere e ad amare questo cuore che li ama a tal punto da aver donato la sua vita. Questa è la sintesi di quest'amore, che abbiamo detto non lo rende immune però dalle sofferenze, dal provare dolore. Santa Margherita Maria Lacocca è una visitandina, una di quelle suore che fanno un'ulteriore promessa quando si consegnano al buon Dio. Ne pregheremo per l'umanità e siamo andati con il nostro Giacomo Avanzi a Reggio Calabria dove c'è una comunità bellissima e anche molto giovane di queste suore, che è una comunità spalancata all'amore e al dolore del mondo. Guardate. Il mistero della visitazione è innanzitutto un mistero di grazia. La Madonna portava in grembo Gesù e si è ricata da Santa Elisabetta che portava in grembo San Giovanni Battista. Al saluto di Maria il bimbo che nel grembo di Elisabetta esulta e lei viene ricolma di grazia. Le visitandine cosa fanno? Portano la grazia al mondo. Innanzitutto con la preghiera. La preghiera è l'offerta totale della propria vita, il sacrificio della propria vita. Il sacrificio è rendere sacro al Signore, quindi offrire tutto al Signore. Lo spirito della visitazione è uno spirito di profonda umiltà verso Dio e grande dolcezza verso il prossimo. Sempre dalla fondazione c'è stata l'accoglienza all'interno del monastero per donne, sia nubili che sposate, che volessero rivedere, diceva il fondatore, la propria anima. Un altro aspetto particolare del nostro carisma è la piccolezza. Il nostro fondatore amava paragonarci alle violette. Diceva che le visitandine dovevano essere nel giardino della chiesa come le violette che sono nascoste ma profumatissime. Quindi non apparire, non volere essere ammirate dagli altri ma soltanto offrire il profumo della virtù della nostra vita al Signore. Giovani donne bellissime innamorate che restituiscono al mondo il loro amore, che passa attraverso quel cuore. Guardate, quella che stiamo per raccontarvi è l'ennesima prova di quanto dicevamo con padre Piazzesi. Si crede in una realtà capace di trasformare la vita e il mondo. È la famiglia che stiamo presentarvi, è una famiglia bellissima, dalla storia molto umana in cui molti di noi si rincontreranno. Sofì Rayon, Gianni Alicino, poi c'è Max Guido e Margot Sofì. Benvenuti, intanto il cuore che sta disegnando Margot Sofì è bellissimo, più bello di questo vestito che hai che è una cosa intantevole. Allora, mamma Sofì, io comincio da lei. Donna come tantissime, giovane, insomma adolescente ribelle, ragazza che insomma la chiesa, sì, papà e mamma ci insegnano delle cose, però la frequentazione è una cosa lontana. Poi intorno ai 20 anni succede qualcosa. Sì, mi sono proprio avvicinata al Signore, è stata proprio una chiamata, mi ha chiamato, ho risposto, gli ho detto sì. Che significa una chiamata? Fammi capire. Sono stata battezzata ma non ho mai, diciamo, partecipato a ciò che la chiesa insomma ci insegna, non andavo mai a messa, ma è proprio stato un desiderio di avvicinarmi, ho detto sì, ho fatto la mia prima comunione a 20 anni. Bellissimo. Ed è stato un incontro meraviglioso, quel tesoro che uno acquista e dice non vorrei mai tornare indietro, non lo voglio lasciare. Poi nel tempo, poco dopo, ho conosciuto una donna straordinaria con la quale ho fatto la mia cresima e poco tempo dopo ho conosciuto mio marito Gianni Adassisi e da lì insomma, dopo pochissimi instanti, anche pochi giorni, abbiamo capito che il Signore da noi voleva il matrimonio e ho lasciato la mia vita, il mio lavoro, tutto, vivevo in Svizzera e sono venuta in Italia. Ci siamo sposati dopo pochi mesi e la cosa più bella di ciò è stata proprio la nostra fede che insieme è cresciuta. E poi nei anni, insomma, un giorno mentre lui lavorava, lo aspettavo in chiesa e ho scoperto lì un libro che parlava della devozione al cuore di Gesù. Ed è stato un libro scritto tra l'altro dalla mia santa, Santa Madeleine Sofì Barra Francese e questa storia di amore con il Signore proprio mi ha travolto. Sofì, ti fermo un momento, a parte la bellezza e la serenità con cui racconti, che sembrano cose normali, noi possiamo immaginare però tutti i cambiamenti, le trasformazioni che ci sono state dietro tutto questo. Gianni, mi incuriosisce l'incontro ad Assisi. Posso chiedere, ma voi che c'eravate andati a fare? Eh no, diciamo così, intanto ci siamo conosciuti appunto grazie al più grande organizzatore di eventi al mondo che è il Padre Eterno. Eh lui, perché poi è il tuo operator dell'anima, eh? Per Antonomasia. Bellissima, bellissima. Ma io in realtà ci ero andato perché vivevo un momento, diciamo così, di crisi personale, se vogliamo spirituale, per via, ahimè, di una brutta storia passata, insomma. E niente, però andavo ad Assisi a chiedere al Signore, intanto accompagnavo mia mamma per fare delle vacanze ad Assisi perché lei non c'era mai stata, quindi voleva vedere questa. E poi, insomma, arrivai lì chiedendo a Dio, dico guarda, tu mi devi far capire se io mi devo consacrare o se mi devo sposare. Addirittura. Ho 34 anni, credo che sia giunto il momento di fare una scelta importante, di avere veramente un destino nel Signore, con il Signore, per il Signore, ma nella vocazione giusta, perché poi sbagliare è veramente l'ultima cosa. E niente, in questo istituto, tra l'altro religioso, mia mamma, che era di Napoli, insomma, era stata toccata dallo Spirito Santo, parlava tutte le lingue del mondo. Sofì è francese, ma lei parlava con i portoghesi, con gli spagnoli, con i tedeschi. Dico, mamma, ma come mi faceva sorridere? E incontrò lei, Sofì, la invitò a mangiare, mia madre, a un ristorante dove andavamo la sera. Sofì, ma questa roba ci sarei otto ore per raccontare questa storia d'amore. Meravigliosa, con le mamme che capiscono ancora prima. Fa bene Gianni a dire lo Spirito Santo quali sono le presenze giuste per noi. Ah, queste mamme che non falliscono. E allora c'è questo incontro tra Aline, questo sguardo. Sì, c'è stato questo incontro e ci siamo, in realtà, durante la cena abbiamo capito che avevamo praticamente la stessa storia parallela. Lei in Svizzera, io in Italia, a Roma, e in realtà quella sera le stiamo a parlare fino alle 4 del mattino. E poi in realtà dopo 10 giorni che ci siamo incontrati, lei ritornò a Lugano perché viveva lì e niente, abbiamo avuto dei segni talmente forti che dopo 10 giorni che ci siamo conosciuti abbiamo capito che il Signore voleva che noi ci dovevamo sposare. Viva Dio. Padre Piazzesi, abbiamo messo insieme due esigenze, un uomo e una donna che vogliono fare chiarezza nel loro cuore. Una giovane donna che capisce che Dio lei può cambiare la vita, che si imbatte però in questo libro. Io le domando una cosa, ma leggere del cuore di Gesù, a chi ovviamente ha iniziato un cammino, ha una certa sensibilità, che cosa e quali corde può toccare dell'anima al punto tale da poi costruirci una famiglia? Le corde dell'amore alla scuola dell'amore. Chiaro che l'amore è unico e poi chiaramente nella nostra esperienza umana si incanala in tante forme, in tante modalità, in tante relazioni e questo è il mistero stesso dell'amore che poi è il mistero di Dio di cui noi percepiamo qualche cosa, anche per grazia siamo consapevoli di qualche cosa ma è per lo più qualcosa di misterioso che ci avvolge, che ci trascende. Sofì, questo cuore che abbiamo detto è per metà uomo e per metà Dio, è il dolore dell'uomo che però è cementato dall'amore di Dio. Cosa ha portato alla tua famiglia? Allora, sicuramente ha portato una grandissima scoperta e questo grazie proprio al cuore di Gesù che si è manifestato a noi di un modo molto chiaro perché lì nel tempo siamo stati anche a Parallemoniale, quindi dopo aver scoperto quel libro che si parla del cuore di Gesù è nato nel nostro cuore il desiderio di dire ma scopriamone di più. Che cosa significa la devozione al cuore di Gesù? Siamo andati lì e lì per noi la nostra vita è cambiata perché abbiamo scoperto una spiritualità che davvero per noi è diventato il centro della nostra famiglia. Fammi capire esattamente cosa. Allora, l'amore incondizionato di Gesù per ognuno di noi, cioè alla fine il messaggio che lui ha rivelato a Santa Margherita Maria sono messaggi per tutti noi perché lui l'ha detto a Santa Margherita Maria però l'ha detto a ognuno di noi, cioè che Dio ci ama, ci ama immensamente, ci ama anche se noi tante volte sbagliamo, quindi lui è pieno di amore, di misericordia, però c'è anche qualcosa di molto bello dietro tutto ciò e l'ha detto anche in un altro messaggio è proprio il senso di dire io ti amo però amami anche tu, cioè non è che quell'amore rimane a senso unico. Braisi, nonostante tutto ho bisogno anche del tuo amore. Gianni, sono tempi complicati per quel per sempre, ne parlavamo anche ieri, vale nella vocazione religiosa ma vale anche in quella umana, umanissima e meravigliosa del matrimonio. Come sia, come diventa una meta possibile quel per sempre attraverso il cuore di Gesù? Ma no, intanto con degli atti di servizio per quanto mi riguarda perché la coppia necessita veramente di aiutarsi uno con l'altro con dei servizi uno verso l'altro, questo secondo me è uno dei primi elementi. Poi è chiaro che se mettiamo Gesù al centro e lui che ci tiene per mano e ci accompagna in realtà alla fine siamo già in tre piuttosto che in due, quindi c'è già un qualcosa in più che uno non si aspetta, che magari forse anche non vede. Però sicuramente a me la cosa che più mi ha, devo dire la parola che più mi ha contraddistinto è la gioia, quindi diciamo è la gioia. Guardate qui che cosa siete e abbiamo visto anche il giorno del matrimonio che è una cosa meravigliosa, fare più attesi in 20 secondi. Dimmi perché non è qualcosa da relegare a una tradizione passata. Perché la vita continua, perché l'amore è sempre alla ricerca di noi per chiederci ma soprattutto per donarci e finché ci sarà vita ci sarà amore e ci sarà questa relazione, indipendentemente dalla nostra risposta e dalla nostra, ripeto, comprensione e consapevolezza. Ci ama comunque. Certo, è come un genitore quando voi mi insegnate, un figlio fa i capricci, ha le sue fasi di crescita e di crisi, bene, l'amore continua ed è una scuola che... E no, no, non è certo quella un'occasione per chiudere. Padre Biazzesi, grazie. Gianni Alicino, Sofì Rajon, Margot Sofì e Max Guido, vi dico grazie per aver portato la gioia. La vita può cambiare anche così, eh? Sì, sì. Grazie di cuore. Grazie a lei. Se poi mi aspettate all'occhio, in mezzo vi do anche un bacettino. Intanto vado... Ah no, 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 non mi devo muovere, stiamo... Scusami Alessandra, voi mi fate sognare e poi mi costringete a queste regole della TV. Su via, pubblicità, giusto? E poi andiamo a cucinare con pieni d'amore. Sì, sì. Su via, allora mi faccio...